a 40 anni la donna specie quella che ha gustato la mela avvelenata della passione prova un solenne terrore a coscienza che due morti l'attendono la morte del cuore e quella del corpo suddividendo le donne in due categorie in base ai criteri più comuni definendo le virtuose o colpevoli è lecito dire che nel sentirsi incluse in questa tragica schiera esse provano un dolore orribilmente intenso virtuose o deluse nelle aspirazioni naturali si siano sottomesso e abbiano sepolte le loro ribellioni in cuore o ai piedi dell'altare non senza spavento si dicono che per esse tutto è finito questa convinzione è che così strani e diabolici che in essa sta la causa di qualcuna di quelle apostasie che spesso sorprendono e atterriscono la gente se colpevoli si trovano in una di quelle vertiginose situazioni che a volte sfociano ahimè nella pazzia o si concludono con la morte oppure culminano in passioni grandi quanto la situazione stessa ecco il significato ambivalente di questa crisi o han conosciuto la felicità se ne son fatto un sistema di vita voluttuoso e non possono respirare che quest'aria satura d'incenso muoversi in quest'atmosfera fiorita in cui le adulazioni son carezze e allora come rinunciarvi oppure fenomeno più strano che inconsueto non han provato che stucchevoli piaceri nel cercare una felicità che le sfuggiva sorrette in questa ardente caccia dalle gioie irritanti della vanità ostinandosi in quel gioco come un giocatore nel suo sistema e per esse questi giorni di bellezza sono l'ultima puntata ad un disperato voi siete stata amata ma non adorata questa frase di teodosio accompagnata da uno sguardo che leggeva non nel cuore ma nella vita era la chiave ed un enigma e flavia si sentì capita l'avvocato non aveva fatto che ripetere idee che la letteratura rese banali ma che importa di che fattura e tipo il frustino è quando sferza la piaga ad un cavallo di razza la poesia era in flavia e non nel carme così come il rumore non è nella valanga anche se la provoca un ufficialetto due vanesi un banchiere un goffo giovanotto e il povero coleville erano miseri successi una sola volta in vita sua era apparsa la felicità ma senza poterla assaporare la morte sarà affrettata a truncare l'unica passione in cui flavia avesse trovato gioia da due anni prestavo orecchio alla voce della religione che le diceva che chiesa e società non parlano di felicità e d'amore ma di doveri e rassegnazione che per queste due massime autorità la felicità consiste nella soddisfazione che procura l'assolvere doveri ingrati o costosi e che la ricompensa non è di questo mondo ma essa udiva nell'intimo una voce che si esprimeva altrimenti e poiché la sua devozione era una maschera che occorreva portare e non una vera conversione poiché essa non se la toglieva mai in quanto la considerava un espediente utile poiché la pietà vera o finta era un modo da adeguarsi all'avvenire se ne stava in chiesa come in un crocicchio in mezzo alla foresta seduta su una panchina leggendo i cartelli indicatori ed aspettando il capriccio del caso in attesa della notte eterna la sua curiosità fu perciò vivamente stuzzicata nell'udire a teodosio descrivere la sua condizione intima e anziché approfittarne allora attaccarsi al lato puramente interiore della sua esistenza e prometterle la realizzazione di un castello in aria sette o otto volte crollato all'inizio dell'inverno si era sentita di nascosto scrutata a fondo e analizzata da teodosio più volte aveva indossato l'abito di seta grigia marezzata le trine nere l'acconciatura a fiori intrecciati con merletti per meglio figurare e gli uomini capiscono sempre quando ci si mette in gingheri per loro l'atroce bello dell'impero la seccava con grossolane adulazioni era la regina del salone ma il provenzale era mille volte più eloquente con una sola occhiata davi aveva atteso una domenica dopo l'altra una dichiarazione si diceva sa che sono rovinata ed è senza un soldo o forse è davvero pio che ad oggi non voleva precipitare le cose e come un esperto musicista aveva assegnato il punto dello spartito in cui percuotere il tam tam vedendosi screditato da coleville con tuiglie aveva sparato la sua bordata preparata con abilità nei tre o quattro mesi impiegati a studiare flavia e aveva avuto successo come il mattino con tuiglie si diceva coricandosi la moglie è dalla mia parte il marito non può soffrirmi a quest'ora sta ambisticciando e il più forte sarò io perché di suo marito lei fa quel che vuole su questo punto il provenzale sarà sbagliato dato che non c'era stato il minimo screzio e coleville dormiva accanto alla sua piccola cara flavia mentre essa diceva a se stessa teodosio è un uomo superiore molti uomini al par della peirad traggono superiorità dall'audacia o dalla difficoltà di un'impresa le energie che vi profondono rafforzano i loro muscoli vi si impegnano al massimo poi nel successo come nella sconfitta la gente stupisce di trovarli gretti meschini o bolsi dopo aver instillato nella mente dei due esseri da cui dipendeva il destino di celeste una curiosità che doveva diventare febbrile teodosio si mostrò affacendato per cinque o sei giorni stette fuori dal mattino a sera per rivedere flavia solo quando il desiderio avrebbe toccato in lei quel punto in cui si passa sopra alle convenienze e costringere l'anziano bello a venire da lui la domenica successiva fu quasi certo di trovare la signora coleville in chiesa e ne uscirono infatti entrambi quasi contemporaneamente si incontrarono in rue de la eglise e teodosio offrì il braccio a flavia che l'accettò lasciando che la figlia la precedesse in compagnia di teodoro quest'ultimo dei suoi figli allora dodicenne dovendo entrare in seminario era semi convittore nell'istituto barniol dove riceveva un'istruzione elementare e naturalmente e naturalmente il genero di felion aveva ridotto il costo della mezza pensione in previsione delle auspicate nozze del professor felion con celeste ma avete fatto l'onore e il piacere di pensare a quanto vi ho detto in così malo modo l'altro giorno chiese in tono lezioso l'avvocato alla bella devota premendo il suo braccio sul cuore con gesto al tempo stesso dolce e forte volendo farlo intendere che si controllava per mostrarsi garbato contro voglia non fraintendete le mie intenzioni riprese nel ricevere dalla signora con le vil una di quelle occhiate che le donne a sue fatte alle passioni sanno scoccare e la cui espressione può adattarsi tanto a un severo rimbrotto quanto a un conflitto interiore vi amo come si ama una natura bella in preda all'infelicità la carità cristiana accoglie sia i forti che i deboli e il suo patrimonio è di tutti fine graziosa elegante come siete fatta per dar lustro alla più alta società quale uomo può vedervi senza un'immensa compassione in cuore bazziccare questi odiosi borghesi che ignorano tutto di voi perfino il valore aristocratico di un vostro gesto o sguardo o di una civettuola inflessione di voce ah fossi ricco se fosse il mio potere vostro marito che certo è una brava persona diverrebbe ricevitore generale e voi lo fareste nominare deputato ma io povero ambizioso il cui primo dovere è nascondere la propria ambizione visto che mi trovo in fondo al sacco come l'ultimo numero di una tombola in famiglia non posso offrirvi che il mio braccio anziché il mio cuore ripongo ogni speranza in un buon matrimonio e siate certa che renderei mia moglie non solo felice ma una delle prime dame dello stato purché ottenessi da lei i mezzi per arrivarci il tempo è bello venite a fare un giro a Luxembourg disse una volta giunti in Rue d'Enfer sull'angolo della casa della signora Coleville di fronte alla quale c'è un passaggio che conduce al giardino attraverso la scala di un piccolo edificio l'ultimo residuo del celebre convento dei Chartreux la mollezza del braccio che egli sosteneva espresse il tacito consenso di Flavia e poiché essa meritava l'onore di una sorta di violenza la trascinò a forza con sé aggiungendo venite non ci capiterà spesso un momento così propizio oh disse vostro marito ci sta guardando è alla finestra andiamo ad agio non abbiate timore del signor Coleville rispose Flavia con un sorriso mi lascia totalmente libera nelle mie azioni oh ecco la donna che ho sognato esclamò il provenzale con quel tono estatico che infiamma solo anime ed esce solo da labbre meridionali scusate signorina riprese dominandosi e ridiscendendo da un mondo superiore all'angelo esiliato e guarda con devozione scusate torno a quanto stavo dicendo come non essere sensibili ai dolori che sentiamo in noi vedendo che sono il destino di una creatura a cui la vita dovrebbe concedere solo felicità e letizia le vostre sofferenze sono le mie anche io mi trovo fuori posto proprio quanto voi la sfortuna ci ha resi fratello e sorella ah cara Flavia il primo giorno che mi è accaduto di vedervi era l'ultima domenica del settembre 1838 eravate bellissima mi apparirete spesso in quell'abitino di mussola di lana coi colori d'un tartan di non so quale clan scozzese quel giorno mi dissi perché questa donna è dai tuiglie e perché soprattutto ha avuto a che fare con un tuiglie signore disse Flavia sgomenta dalla china rapida lungo la quale il provenzale conduceva il discorso so tutto diccherò egli accompagnando la frase con una spallucciata e mi è chiaro tutto ne vi stimo meno su via non è poi il peccato di una donna brutta o gobba dovete raccogliere i frutti del vostro errore e io vi aiuterò celeste sarà ricchissima e in questo consiste tutto il vostro avvenire non potete avere che un solo genero abbiate l'accortezza di sceglierlo con cura un ambizioso diverrà ministro un grullo vi omiglierà vi creerà fastidi renderà infelice vostra figlia e se ne dilapidasse i beni non saprebbe certo ricostruirli ebbene io vi amo le disse e con affezione sconfinata siete al di sopra ad una quantità di meschine convinzioni da cui gli sciocchi si lasciano invischiare mettiamoci d'accordo Flavia era esterrefatta fu però toccata dall'estrema franchezza di quel modo d'esprimersi e si diceva certo costui non fa misteri ma ammetteva anche di non essersi mai sentita così profondamente scossa e turbata come da quel giovane signore non so chi possa avervi indotto in errore sul mio conto e con quale diritto voi ah scusate signore rispose egli con freddezza sprezzante ho sognato mi sono detto lei è tutto questo o non ha che apparenza ora so perché resterete sempre al quarto piano lassù il coup d'enfer e sottolineo la frase con un gesto energico indicando le finestre dell'alloggio di Coleville visibili dal grande viale del Luxembourg lungo il quale stavano passeggiando soli in quell'immenso campo arato da tante giovanili ambizioni sono stato franco ma attendevo che anche voi lo foste io ho vissuto giorni interi senza pane signora ho saputo cavarmela seguire i corsi di diritto ottenere la laurea a Parigi con duemila franchi appena di capitale ed ero entrato nella barriere d'Italie con cinquecento franchi in tasca ripromettendomi come uno dei miei compatrioti di diventare un giorno uno degli uomini più eminenti del paese e l'uomo che ha raccattato spesso il cibo nei cesti in cui gli albergatori ripongono gli avanzi e che vuotano alle sei del mattino davanti alle loro porte quando i rivendugli ne hanno a sufficienza quest'uomo non indietreggerà davanti ad alcun mezzo lecito mi credete l'amico del popolo eh? disse sorridendo la fama ha bisogno di un portavoce non si fa certo udire parlando a fior di labbro e senza fama a che serve l'insegno? l'avvocato dei poveri sarà quello dei ricchi vi basta che metta a nudo le mie viscere? apritemi il cuore ditemi siamo amici e un giorno saremo tutti felici mio dio perché sono venuta qui? perché vi ho dato il braccio? proruppe Flavia perché è scritto nel vostro destino e rispose egli mia cara e diletta Flavia soggiunse premendosi il braccio sul cuore aspettavate di udirmi dire frasi banali siamo fratello e sorella ecco tutto e la ricondusse al passaggio per fare ritorno in Rue d'Anfer Flavia provava una sensazione di terrore mista al compiacimento che alle donne causano emozioni violente e scambiò questo terrore per quella specie di tremore che provoca una nuova passione ma si sentiva soggiogata e camminava in silenzio a chi pensate richiese Teodosio a metà del passaggio a tutto ciò che mi avete detto essa rispose ma egli replicò all'età che abbiamo si saltano i preliminari non siamo ragazzi e apparteniamo entrambi a un ambiente in cui dobbiamo intenderci sappiate insomma riprese sboccando che sono tutto vostro e le rivolse un profondo saluto i ferri sono sul fuoco si disse seguendo con lo sguardo la preda frastornata